Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Ausa nel tratto in cui dal comune di Cervignano del Friuli scorre in quello di Terzo d'Aquileia. Ad allertare i soccorsi un residente di un'abitazione che si affaccia sul corso d'acqua che ha notato la salma galleggiare. In pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 a bordo dell'ambulanza, i vigi del fuoco del vicino di staccamento di muscoli e la polizia di stato. Quest'ultimo ha provveduto a interdire l'area per permettere il recupero del corpo. Portata a Riva è stata fatta la prima analisi medica sulla salma. L'uomo a M le sue iniziali aveva 82 anni e risiedeva nel comune della bassa friulana. Gli investigatori non trascurano nessuna pista dal malore fatale al gesto estremo escluso il coinvolgimento di terzi. Una volta ricevuto il nulla osta da parte del magistrato di turno la salma è stata ricomposta nella cella mortuaria del cimitero in attesa dei funerali.